Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Benvenuti a tutti e a tutti, sono Sabrina Testa, consigliera dell'Ordine regionale degli assistenti sociali del Piemonte e sono oggi con voi per presentarvi un nostro ospite a cui rivolgo la prima domanda. Ciao, chi sei? Mi chiamo Antonio Attina, ho 52 anni e sono il presidente dell'Ordine assistenti sociali del Piemonte, dunque sono un'assistente sociale. Ho incominciato questo percorso quasi per caso direi, mi sono avvicinato grazie all'esperienza del servizio civile che mi ha fatto capire l'importanza di sostenere nella nostra società chi ha bisogno e di fare in modo che nessuno resti indietro. Che cos'è l'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte? L'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte raccoglie la comunità professionale regionale, ne è la sua espressione, e opera sia a tutela dei professionisti iscritti sia a tutela dei cittadini beneficiari degli interventi, proprio perché possano usufruire di interventi di qualità dal punto di vista professionale. Quest'anno tra l'altro ricorre il trentesimo anniversario dell'istituzione della legge del nostro ordine in Italia e mi piace ricordare le parole pronunciate dal presidente Mattarella. La Repubblica è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti impegnati quotidianamente per la tutela dei cittadini. Cosa fa esattamente l'assistente sociale? L'assistente sociale incrocia la vita delle persone ogni giorno, lavora con i singoli, con i gruppi, con le comunità, contribuisce a produrre cambiamenti, a progettare cambiamenti del benessere delle persone e delle comunità. Quando una persona ha una necessità, il lavoro dell'assistente sociale è quello di valutare la situazione e capire quali possono essere gli interventi più efficaci per aiutare questa persona. A volte si tratta di connettere le risorse alla comunità, altre volte questa persona ha bisogno di un progetto individualizzato, più articolato, più complesso. Uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro è la relazione, che si deve in qualche modo comunque basare su una fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale che è teso a valorizzare le risorse che ogni persona ha e anche la sua capacità di autodeterminarsi. Come si fa a riconoscere quando c'è bisogno di uno o di un assistente sociale? Siamo spesso portati a pensare che la fragilità sia qualcosa lontana da noi, diversa. In realtà, quando pensiamo alle persone in grave difficoltà economica, senza fissa dimora, alle persone con disabilità, alle persone con problemi di tossicodipendenza, insomma, dobbiamo pensare che la realtà è anche questa e che in qualche modo ognuno di noi potrebbe trovarsi per qualsiasi necessità a doversi rivolgere ad un assistente sociale. E come lo fate? Guarda, per rispondere a questa domanda ci vorrebbe molto ma molto più tempo. Posso dirti che è importante mettere in campo tutte le competenze scientifiche di cui siamo a disposizione per conoscere, comprendere, condividere con la persona le possibili strade e soprattutto in qualche modo scegliere insieme le strade migliori. Serve la volontà di trasformare una crisi in un'opportunità e serve anche una presa di coscienza collettiva perché l'intervento non è soltanto un intervento tra persona e assistente sociale. Come fare a contribuire a scardinare i luoghi comuni sulla professione? C'è spesso una scarsa conoscenza del ruolo dell'assistente sociale, delle metodologie, degli approcci che utilizza. Non è facile restituire alle persone quella percezione, quella consapevolezza di ciò che facciamo ogni giorno. Spesso la comunicazione dei media è in qualche modo legata ad aspetti che sono critici, riguardano eventi critici, che non ci permettono di approfondire il ruolo positivo dei professionisti. L'opportunità di raccontarci in prima persona quindi è molto importante, non solo per noi ma anche per le persone che si rivolgono ai servizi. Costruire una fiducia tra assistente sociale e cittadino è la cosa più importante e permette al cittadino di potersi affidare a dei professionisti che sono in grado di rispondere alle sue esigenze in qualsiasi momento. A Torino abbiamo organizzato cinque incontri al Circolo dei Lettori in cui abbiamo voluto portare fuori dall'ordine dei medici, portare verso le persone, verso la cittadinanza, dei temi particolari, dei temi che possono sembrare divisivi qualche volta ma che interessano la vita di tutte le persone. e sono in particolare i temi dell'aborto, del fine vita, i temi del clima, dei problemi ambientali in cui i medici sono coinvolti e il tema dell'intelligenza artificiale e infine forse il tema che coinvolgeva di più le persone che ci ascoltavano che era il tema della comunicazione. Questi cinque temi sono temi che discutiamo spesso tra noi medici, sono problematiche che affrontiamo tutti i giorni che ci coinvolgono sia per delle nostre riflessioni di tipo deontologico e di tipo etico ma soprattutto ci coinvolgono nel rapporto con le persone. Abbiamo però voluto uscire dai nostri ambiti e portarli in mezzo alla gente anche per avere da parte delle persone dei pareri, capire che cosa ne pensano di queste cose e gli incontri si sono svolti per l'appunto cercando prima di offrire qualche riflessione ovviamente erano temi molto ampi per cui non si poteva parlare di tutto. Abbiamo scelto alcuni punti che potevano essere particolarmente interessanti e poi abbiamo lasciato spazio alle persone che erano intervenute per interventi, per domande e per discussioni. Per ciascun tema sono venuti degli aspetti particolari, sono emersi degli aspetti particolari. Per esempio sul tema dell'aborto si è discusso se l'aborto era ancora un diritto per la donna oppure se questa possibilità anche legata al dibattito che c'è negli Stati Uniti è una possibilità che si va perdendo. Ed è stata molto interessante la discussione su un punto specifico che era l'aborto è tutto sommato il male minore? Questa era un po' la discussione. Per quanto riguardava l'intelligenza artificiale il tema è stato se un domani ci troveremo ad essere curati non più da dei medici ma da dei robot e per esempio sull'ambiente un tema particolarmente interessante è stato quello del contributo che dà al sistema sanitario non al benessere della popolazione e sicuramente dà un grosso contributo al benessere ma anche al malessere aumentando la possibilità dell'aumento delle temperature con il funzionamento stesso del suo sistema. Potremmo anche ricordare per esempio nel tema che abbiamo affrontato sul fine vita quelle che sono le implicazioni che avrà la sentenza della Corte Costituzionale sul cosiddetto suicidio assistito e le problematiche che pone ai medici e gli aspetti legati invece ad altre possibilità che ci sono nell'affrontare oggi il fine vita che sono per esempio la sedazione terminale profonda e si è discusso sulle differenze di questi diversi momenti. Ben trovati a tutti, sono Claudia Artale e sono il presidente di Associazione Contesto e con me c'è Ilenia Sara Sanfilippo che è la segretaria di Associazione Contesto. Associazione Contesto è una realtà torinese che nasce nel 2013 per stare al fianco delle persone con l'aiuto del cane. Noi ci occupiamo di intervento assistito con animali e prevalentemente coinvolgiamo nelle nostre attività i cani. Ora, sono qui per parlare di relazione con gli animali. La relazione, l'importanza che la relazione con gli animali riveste nella nostra vita è un dato sempre più trasparente dal fatto che molte famiglie scelgono di adottare un cane o di un gatto o altri animali. Ecco, l'intervento assistito con gli animali muove da questa considerazione, dal fatto che di per sé la presenza degli animali possa fornire un'occasione di benessere, di miglioramento delle condizioni di vita per utilizzare le straordinarie potenzialità di questo rapporto e riuscire ad ottenere obiettivi individuali e personali che diversamente sarebbe difficile ottenere. Ecco, gli interventi assistiti con animali sono normati da delle linee guida che sono state stipulate nel 2015 e che hanno messo un po' in ordine una professione che prima veniva svolta in maniera estemporanea, ma sono prevalentemente delle attività che hanno un carattere ludico e utilizzano le caratteristiche della relazione per mettere alle persone di raggiungere degli obiettivi molto importanti. Noi lavoriamo prevalentemente in strutture socioassistenziali, RSA, quindi facendo interventi a favore di anziani, scuole, facendo educazione attraverso il coinvolgimento degli animali, ma l'attività prevalentemente svolta dall'associazione è a favore di persone con fragilità e con disabilità, per cui lavoriamo in centri diurni, strutture per disabili di questo tipo qua. Il cane è un mediatore relazionale, noi proiettiamo molte cose sul cane e attraverso la sua presenza automaticamente siamo in grado di compiere cose che invece diversamente non saremmo riusciti a fare. È un po' il motivo del nome dell'associazione, ci chiamiamo Contesto perché siamo al fianco delle persone con l'aiuto degli animali, ma Contesto anche perché il cane è un fatto ambientale, immediatamente qualifica l'ambiente, lo rende differente e ci mette più nelle condizioni appunto di essere a nostro agio, quindi rappresenta di per sé un tratto di benessere. Non si improvvisa nulla nell'intervento assistito, viene progettato e poi si cerca di attuarlo in collaborazione con l'equip operante, quindi noi abbiamo a che fare con educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, medici, quando andiamo nell'ambito clinico, perché l'intervento può essere di tipo ludico, educativo, ma anche terapeutico. È per questo che la formazione degli operatori è affidata alla Regione. Sì, esatto. Infatti le persone che intervengono negli interventi assistiti con gli animali sono persone che hanno seguito un percorso di formazione piuttosto importante e lungo e dettagliato attraverso enti di formazione che sono accreditati nella Regione Piemonte. Non soltanto, anche i cani che accompagnano i loro umani negli interventi assistiti con gli animali seguono una preparazione per far sì che tutto fili liscio. Questo è importante sottolinearlo perché senza gli amici a quattro zampe questi interventi non potrebbero svolgersi. Sì, spesso l'intervento assistito con gli animali è la ricerca di mettere il cane giusto nel posto giusto con la persona giusta. Quindi è un lavoro molto fine da questo punto di vista. È per questo che vorremmo approfondire e oltre a utilizzare le naturali caratteristiche degli animali che entrano molto facilmente in relazione con le persone nei prossimi mesi, nei prossimi anni vorremmo che fosse sempre più importante il ruolo del cane d'assistenza. È un cane che sta di fianco alla persona da un rapporto individuale e che riesce ad assolvere tutta una serie di funzioni sopperendo a una disabilità fisica o a un disagio cognitivo o relazionale. L'associazione Contesto è formata da professionisti e vorremmo ringraziare tutti i ragazzi che operano con noi e i loro cani. Senza queste 11 meravigliose persone e i loro cani nulla di questo sarebbe possibile e le persone non avrebbero al fianco un cane che gli permette di migliorare le loro condizioni di vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben trovate e ben trovati. Sono Dario Bonsignorio di Uni, l'ente italiano di normazione. Siamo qui con Claudio Perrisinotti dell'area Innovazione e Sviluppo per parlare di economia circolare e del ruolo delle norme tecniche. Innanzitutto, che cosa si intende per economia circolare e perché se ne parla tanto? L'economia circolare è definita come un sistema economico che attraverso un approccio sistemico e olistico mira a mantenere circolare il flusso delle risorse conservandone, rigenerandone o aumentandone il valore e che al contempo contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'economia circolare è un cambio di paradigma necessario della transizione ecologica per superare il modello economico lineare che ormai non è più né competitivo né sostenibile. Il punto di partenza per definire il percorso verso la circolarità è quindi la sua misurazione. È possibile? Come riportato nella Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, il punto di partenza per definire il percorso verso la circolarità è la sua misurazione. La strategia, ovvero una delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cita espressamente la specifica tecnica 11.820 pubblicata da Uni a novembre del 2022 come uno dei possibili strumenti a supporto della misurazione della circolarità. Il documento contiene un set di indicatori per misurare la circolarità e si rivolge ad organizzazioni o gruppi di organizzazioni, incluse le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi tipologia o dimensione. La misurazione della circolarità consente di avere anche delle evidenze oggettive sullo stato di un'organizzazione e di poter pianificare strategie attuali e future per il miglioramento. Può favorire anche una comunicazione trasparente e consapevole verso gli stakeholder di riferimento, inclusi i consumatori, contribuendo quindi ad evitare il fenomeno del greenwashing. La specifica tecnica UniTS 11.820 è solo il primo documento sull'economia circolare ad essere stato pubblicato, ma ce ne saranno altri? Sì, ad esempio la UniTR 11.821, una raccolta di buone pratiche italiane di economia circolare che potrà essere utile per replicare casi di successo e promuovere il modello circolare. In ambito internazionale l'Italia sta contribuendo agli standard della serie ISO 59.000 che forniranno definizioni, framework, modelli di business, indicatori e buone pratiche per supportare le organizzazioni nella transizione circolare. In questo contesto l'impegno di Uni non è limitato alla redazione di norme tecniche, giusto? La redazione e poi la pubblicazione di norme tecniche è solo l'inizio di un processo. Nel caso delle norme sull'economia circolare, Uni si occuperà anche di raccogliere i dati derivanti dall'applicazione della specifica tecnica sulla misurazione della circolarità e di rappresentare l'Italia negli organi tecnici europei e internazionali. Collaboriamo anche a diversi progetti europei di innovazione e sviluppo sul tema come il progetto Circtred che riunisce 12 Paesi europei e il cui scopo è quello di realizzare una piattaforma digitale per raccogliere tutte le informazioni critiche sugli elettrodomestici, i componenti, nonché i materiali e molto altro in modo che i manager e i produttori possano valutare i percorsi di circolarità migliori ed estendere quindi la vita utile dei prodotti. Allo stesso tempo gli utilizzatori degli elettrodomestici e i consumatori avranno accesso alle informazioni sulle prestazioni dei prodotti dando così la possibilità di prendere decisioni più consapevoli. Grazie Claudio. Ricordo che per sapere di più sulle attività di Uni potete visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Buongiorno a tutti e benvenuti alla trasmissione dedicata all'Associazione Vittime del Dovere Servizi e Attività. Sono l'Avvocato Sabrina Mariotti e insieme a me c'è la collega l'Avvocato Paola Maria Di Luce dell'Ufficio Legale dell'Associazione Vittime del Dovere. Per coloro che non ne avessero già sentito parlare l'Associazione Vittime del Dovere è stata fondata nel 2007 per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e magistratura caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune nella criminalità organizzata e al terrorismo. La sede dell'Associazione è a Monza ma opera in tutta Italia. Passo quindi la parola alla mia collega, l'Avvocato Paola Maria Di Luce per spiegare al pubblico quali sono i servizi dedicati agli associati. Grazie Paola. Salve a tutti. L'Associazione, come accennava Sabrina, ha attivato diversi servizi per i soci. Un call center che risponde alle richieste di soci e fornisce informazioni sia di carattere generale sulle attività dell'ente, sia anche informazioni più specifiche collegate quindi allo status di vittima del dovere. Abbiamo poi un servizio di assistenza psicologico che viene reso grazie alla collaborazione prestata da diversi professionisti, servizio che è collegato poi all'attività del centro di sostegno psicologico che è stato ideato proprio per offrire uno spazio di consulenza e di ascolto rivolto ai superstiti e ai familiari delle vittime. Le sedute di consulenza sono svolte con incontri in presenza oppure anche attraverso incontri in videoconferenza o via filo. Abbiamo poi il servizio di consulenza legale di cui ci occupiamo io e la collega Mariotti. Abbiamo poi un ufficio stampa che si occupa della gestione, diciamo, di tutte le attività di informazione e comunicazione degli eventi realizzati dall'ente e comunque di tutte quelle attività che sono di interesse per i soci. Ma ci sono anche attività che l'associazione pone in essere a favore di tutta la collettività. Ad esempio l'organizzazione di convegni seminari, attività di formazione e formazione, modalità online o anche in presenza, in collaborazione con importanti atenei è rivolta agli studenti e ai professionisti per diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva. A queste si affiancano le cerimonie commemorative religiose, gli spettacoli teatrali, i concerti, le manifestazioni sportive per sensibilizzare le nuove generazioni e la collettività rispetto delle istituzioni, del bene comune e del prossimo. A queste si aggiungono poi ovviamente le attività parlamentari dell'associazione, le proposte di legge, le audizioni parlamentari che vogliono garantire da un lato l'approvazione di una legislazione rispettosa delle vittime in generale, rivalutando appunto il loro ruolo nel sistema penale, ma anche per garantire le adeguate tutele per le famiglie dei caduti e degli invalidi, come ad esempio con l'ultimo disegno di legge presentato di estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo. Per tutte le informazioni sulle numerose attività e i servizi offerti dall'associazione potete visitare il sito www.vittimedeldovere.it I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!